che bella quella skin su capcan e lo so ragazzo io dopo che vado dall'estetista mi sono fatta una foto l'ambiata a rainbow e gli è così tanto piaciuta che l'hanno messa non ho capito non so perché abbiano deciso di metterla in quello che mi piace allora mettiamo due qua poi ne vorrei mettere due potrebbero anche stare qua e una raga la mettiamo quale voglio mettere attaccate così prendere gli anelite ma se vuoi vedere i non c'è no nel senso se vuoi farti vedere il culo dagli altri si se lo vuoi vedere tu il culo lo devi far prendere un tuo compagno perché comincio il tuo compagno fabio sa skin è devastante in realtà vuoi solo vedere il culo di iano ma non c'è nessuno che stare da qua quel c4 ho nessuno che si rampella la finestra veramente sapete che qualcuno da sotto potrebbe venirmi sento qualcosa non so se è la merda che mi sta scendendo dal culo piano piano o è qualcuno davanti a me un 50 e 50 di possibilità sia uno l'altra se comincia a sentire bagnato vuol dire che la prima che mi ha visto ma io me ne vado perché sono fortissimo questa è la mia cucina ragazzi qui dove i cuochi c'è dove la mia schiavitù scusa è vero che la mia cucina ragazzi è vero che la mia cucina ragazzi ooo come on bro are you fucking kidding bro did you see that brothers did you see that brothers oh 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 Nice 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 Allora Allora Golden Max FNBR Grazie per il secondo mese Bentornato ragazzi vi ricordo che Su Twitch al momento in questo mese C'è il subtember dove le sub Costano la metà Quindi se volete abbonarvi fatelo Ma che cazzo c'ha la connessione Dei bibib Non carica niente ogni volta Aie che c'è la connessione Dei bibib Vedi ragazzi Capkan mi ha appena detto sentizio di andare a prendere le uova Al panettiere però Detto in giapponese Che è come se T'avessi insultata a non in carrozzella Ma invece lui ha detto Minchia devo andare a prendere le uova dal panettiere Quello che l'ha detto così tanto bene Eeeh Milka Ziv S'è data all'ippica al momento Non è al momento raggiungibile Vabbè Come la puzzano di tua madre Pure lei non è raggiungibile Qualcuno ci entra ragazzi E ci giochi coglioni di crystal Allora panettiere ragazzi Messo lì Nel gocci Ok Ok Allora Allora Giuse Ne sa Pach Vediamo se mi sgama Tiri se entra Potrebbe scoppiare Allora sta Ha rotto la mia captain Sta dronando Ora entra E ram S'attacca al cazzo Dimi Sì Ha misdronato da fare schifo No ma perché Aveva già premuto Aveva già premuto il tasto E quindi Non poteva più fare niente Mannaggia sto termite De merda Ma che ci fa qua Che cazzo devi briciare Tu madre No era Quella è chissata Hai capito Frate Tommaso Farò un white bro White Ok La capca Come on bro Oh my god Ok Comunque ragazzi Penso di essere Il cacca Nesfreggiato Meglio di tutti Troppo forte Questo gioco Madonna Cioè raga È troppo facile Comunque È un dire Poi se io sono Un dire Troppo facile Questo gioco Comunque Penso che Veramente È inutile pure Giocarlo È troppo facile Troppo facile È cap Cioè termite Mi ha preso Perché Era tutto calcolato Che dovesse scoppiare La capca Quindi ce l'ho fatta apposta Ah nel video che ho messo Sì faceva dei flick Che porco Due Spostate Però Però io sono degalisti La balc è carriata Perché sta giocando Sta giocando Dove sei Della terra Settore 42 Grazie Mario Questa per i dead Abbiamo perso Grazie Deve anche non dirlo Non mi offendevo Mi manca Allora raga Uno uscirà da qua Panettire ragazzi Ciao Cromo Benete Eh vabbè La fate schifo Cazzo Allora uno da qua È sicuro Ragazzi Devo solo aspettare Ah 41 Ah Sì pronto Ah Ok Ah ce l'è uno Che sta prendendo da qua Mi ha detto Ok Ah quello si è droppato Siamo messi così male Si è proprio Ok Sì Ok Vediamoci Sì Ma dov'era la bomba scusatemi Dunque raga vi giuro sta cosa Che non mi fanno capire dove cazzo è la bomba Io impazzisco Io impazzisco Ma mi vuoi mettere il cazzo di simbolo Me lo vuoi fare capire col sound Non si capisce o la minca Niente dov'era Dov'era come faccio a capire dove cazzo ha plantato Cioè non mi puoi mettere Il sound universale Ma fammi capire do cazzo mi sta suonando Raga stanno sopra Stanno sopra Stanno sopra Ma io potrei prendere anche Amaro Amaro però ragazzi col pompa Col pompa Vabbè Che gli hanno avuto le granate Non ce l'hanno mai avuta le granate a me Ma ragazzi Non si capisce più un cazzo Faccio vedere il pad che è bellissimo Ma è quello nero Però io ho messo No anzi no è quello di spider Per me che cazzo dico quello nero Il mio cazzo è nero Non ho capito T'ho superato Nessissima Eserciti posso fare per la mira Eh oddio Guarda se puoi mirare la mira c'è il mio coaching Perché Oh coccane oh coccane Oh coccane 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 Cocane coccane coccane Cocane coccane coccane Allora devo dronare Droniamo un attimo No Lo ammazzi tu Grid Grid Oh I like you bitch Oh allora Eh però che cazzo tu Mi hai rotto pure i coglioni eh La vedo perché lo faccio No Non l'ho lagato Ho lagato Ho lagato Mi ha premuto il tasto da solo Ho lagato Eh raga quanto Vedete 47 Ho 10 Eh purtroppo Non ci voleva Eh perché se muore il miglior in campo Perché l'aggo È brutto eh C'è Palle C'era pure vento Sì C'è La sabbia negli occhi Cioè Ma Ma Ho successe troppe cose ragazzi Che palle Ma dove sta questo Oh 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 Io te l'ho pure chiamato Sì ce l'hai sul pin 4 eh Lo salvo Ross Pin 4 Ross Eh Ross Dai Non cagarti addosso Eh Andando si caga addosso Sto champion di merda Però ragazzi eh Ma che Cazzo le prete Champion Christopher Nolan Panettiere ragazzi Dai raga Ma comunque potete farci Perché si è cagato addosso Ma perché non pusha In quel Con l'istante Ma pusha Che a te frega Se ci mori Allora io prendo fuse Perché gli vorrei andare da sopra A romper il culo E La botola Mi prepiazzo Il drone sopra E vediamo Ragazzi vi ricordo che con Su youtube Mettete mi piace La live Su twitch Vi ricordo che ci sono le sub Gli abbonamenti Scontati Perché tutto settembre È sempre così Ok Eh Sì no no è già da oggi Non me lo chiedere Perché Quindi se volete abbonarvi Sto scontato Allora qui non c'è nessuno Io lascio il drone qua Perché vorrei fare la cosa Che mi rampello Entro e prendo il cazzo Non hanno fatto neanche la botola Che bravi ragazzi Si vede che sto bravi Però mi ero Parato in difesa di attacco Non esiste Allora quando twitch permette Si youtube No No Vabbè twitch l'ha sempre permesso No È vero Hai ragione È la twitch Che rompe picoglie Ma da quando ha capito Che sta fallendo Ragazzi Minchia non ho Non ho preso la testa Non ho preso la testa Non ho preso Dove l'ho sparato Eh però ha sparato bene Oh raga Giorgio però ha sparato bene Eh bisogna ammetterlo Quando prendi il cazzo Eh Giorgio qui Ma Ma ha distrutto Giorgio Io l'ho missato Sfiga eh Però Giorgio qui Ha sparato bene Eh che gli vuoi dire Ma lasera Peccato 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 Grande peccato Giorgio Vabbè io temo il team Con i droni Ah il francese Su scala Eh bianca Se lo trita Uno è sopra Up Up on white Ace Hey Ace Is in Dining Dining Doc Ecco l'amico Si sul mirino Ma quello che vuoi Tuzzi È in closet Ah no è sempre lì Questo quello Ma ha rotto i coglioni Oh raga Dai raga Quello si è scatenato Ma che cacca cazzi Christopher Nolan Ma la sola è importante Per chi No la sola nero Fa cagare Male Un chat Molto male Molto male questo Hai ragione Che cacca Ma c'è molto Di schiaffare Sta coppia Di Multi Piattaforma No 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 Ragazzi Non c'è più Cazzo Puoi fare Le live Anche in contemporanea Su Pornhub Non ci so Puntaccio Panettire ragazzi Minchia Panettire ragazzi È bravo Ma gli manca Sempre il finale Eh raga Panettire ragazzi Dei migliorare Nel finale Perché Nel finale Panica Tutto bravo Tutto bene Minchia Il finale Mi muore Celebralmente Ogni volta No comunque Fiswix Sta giocando bene La vedo proprio Che si sta impegnando Nelle cose che fa Tanta roba Tanta roba Eh Il problema ragazzi È che dobbiamo Prendere sopra Oppure Ma sapete invece Che possiamo fare Ora raga Non l'ho mai provata Sta tattica Non l'ho mai provata Ok Mai Potrei prendere il cazzo Però ho un'idea No raga Lo posso fare Allora io prendo i panna Mi rampello qui E faccio Briccio con uri Eh Black Ops 6 Cosa vuoi sapere Se è bello Se mi piace Se ci gioco Se mi piace Fare I papillon Che vuoi sapere Mi piacciono le uova Aspettate Oh ma c'è ne uno Ma la gente Ragazzi è cogliona Ma c'è o ci fa Raga ma la gente C'è o ci fa Ma che fanno Ma perché Oh No no Sono un coglione Sbagliato Che ne pensi Allora io ci ho giocato Una partita di ieri Per provarlo Per risettaggio E tutto E mi sono divertito Un botto Io da ottobre Ragazzi lo comincio A portare fisso Sul secondo canale Quindi sì Secondo me Tra zombie E molti giocatori E poi warzone In teoria Secondo me Molto figo Consiglio un medico Al doc contro Sì perché mi sa che è morto Quindi al team avversario Sì potrei consigliare un medico Che non c'è più Cioè ragazzi Ma che tattica Voi ho fatto Cioè chat Ma che cazzo Di tattica Voi ho fatto Ma che tattica Voi ho fatto Rampellato Lì Due kill Ho briciato Mazzato quello Dal bri Chat I'm insane I'm fucking Insane Guys Ragazzi il problema E che Vabbè che Do cazzo Hanno pushato L'ultima volta questi Sapete che Possiamo andarci Da qua Possiamo mettere Due qua Non mi piace Tanto che Apkani sto site Perché Ci sono De Ah ma quanto Ci scommettete Che non vedono Questo Ma quanto Ci scommettete Raga Lo faccio Mi serve Sound totale Zitti Tutti Zitti Per poco Qua Ciao ragazzi Ragazzi è il mute Ragazzi è il mute Vabbè Ragazzi Non mi serve WTF Ma Ah qua è il mute Ok Allora Ok Allora uno si è troppato Ma mi sa che mi arriva anche da la Fatemi mettere un po' distante Ok si è troppato Sta dronando Allora dietro non copre nessuno Ok Ok Oh no No Laser su Capcan no Il laser non si vede Adesso se non fai reaction Non hai video Aspetta mi hai video per se Ragazzi ve l'ho sempre detto Io sono l'oglio Tu Fatemi notizia Prendendo il tuo coaching Mirerò Sai è una cosa strana È una cosa strana però succede Doc che ha fatto Ragazzi Ma Doc chi? Non c'era Doc Ma quello contro Allora quello contro È da tre round Quattro round che fermo No tre round quindi sono contento così Ah stanno giù Eh Giù è normale che stanno giù Che abbiamo preso un pisello enorme Cazzo che stanno giù chiesto Ehhhh Ragazzi io riprendo Feuds Eh poco fa non ha funzionato Perché mi hanno staccato Troppo Troppo Ah comunque Questo si è bravo eh Sta migliorando Sta veramente migliorando ragazzi Tanta roba ragazzi Stanno allineando i pianeti Sto sbranando i pianeti Tanto ora prendo il cazzo di nuovo lì Ragazzi tranquillo Ehhhh Sì Li copri però sì eh Da venite al cazzo Poglione Dai muoviti dai Ahahahah haahahah Aiuto da il giocnooo Dai fai 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 Ok Fai Ok bravo, clean, ottimo, vabbè ragazzi il drone sto prendendo troppo tempo finchia io a Giuseppe davvero è una merda, ho capito ma io com'entro mo? oh non c'è nessuno eh, ma vedete quando entro che mi rompono pure il culo io devo andare ragazzi qua, è più già, no ragazzi questo, io con questo non posso farlo a sta dattica c'ha un culo? Cristo il dio? oh sono lì muoio, minchia non ci vado più in dining, vaffanculo sto posto di merda che palle, non ce la posso fare, ciao Mircea come va? oh sono l'abbè la libreria frate che palle eh, oh quello si sveglia solo in sto site ragazzi è un fancazzo che palle, oh sto site ragazzi è invincibile, si sapeva vincere che tu coglione ma è morto il coglione te lo odio vi giuro ma no così lo hanno capito allora chat però, allora vi posso dire la mia cioè, sto tipino qua, no, cioè lo vediamo sempre alla fine perché non fa mai un cazzo, ne sto sempre fermo arriva sempre a 10 secondi che non ha mai pushato nella tua vita ci credi, ci c'è, lo vedete? questo qua, sto beggars boy, minchia non fa mai un cazzo, fa le kill, ok, però porco due, sta sempre alla fine fermo non prende mai l'iniziativa, sta fermo sempre lì minchia non lo vedrete mai morire per prima allora ragazzi, io vado sopra a mettere i capcan dai che secondo me è sopra ma pure è sposa, aspetta qua secondo me è scima eh, sono un bra patata avremmo vinto ragazzi solo che purtroppo allora, eeeh mettiamoli qua mettiamoli così mettiamone uno anche qua dai spargiamo il mettere degli dèi via via Il fatto è deciso di spaventare la città e la città. 3500 a.m. Piotr Vellicino Piotr Vellicino Piotr Vellicino Piotr Vellicino Piotr Vellicino Vedo un cazzo, sapete? Piotr Vellicino Piotr Vellicino Piotr Vellicino Piotr Vellicino Sta ridronando Vediamo Vediamo Ma che cazzo ci fanno? Piotr Vellicino Ah ragazzi, abbiamo perso Cazzo abbiamo perso Ma cazzo Missione Un'altra parte Un'altra parte 19500 per il vicino Sì Oph Уff Piotr Vellicino Piotr Vellicino Piotr Vellicino Piotr Vellicino Peccato Sinistra che stava guardando Secondo me non aveva un cazzo di senso Qualcuno a destra in 3 Perché volevo ammazzare quello rampellato fuori dining Fa niente, fa niente ragazzi Abbiamo perso lo smeraldo? 4 Andai